Qual è? Che noi in questi giorni abbiamo avuto la prova, abbiamo assistito in diretta grazie a queste intercettazioni, grazie a queste riunioni registrate, dell'intervento diretto della politica che si infila in mezzo a un connubio di correnti. Qui si parla sempre di spartizione tra le correnti, invece stavolta si tratta della magistratura. Però qui c'è un salto di qualità, cioè c'è una commissione tra pezzi di correnti che si tratta tra due pezzi di politica che non si tratta di schiena in tempo. Qui si tratta di destra della politica che si incontra con due politici di sinistra, della sinistra parlamentare, dove uno dei due parlamentari è imputato. la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio e lui era interessato ai nuovi vertici di quell'ufficio giudiziario. E stiamo parlando di Luca Lotti. Stiamo parlando di Luca Lotti che interviene a una riunione di magistrati insieme a Cosimo Ferri che era il capo della corrente dei giudici di destra magistratura indipendente e che Matteo Renzi ha candidato nelle viste del Partito Democratico alle ultime elezioni nel partito di sinistra. Ecco, avete capito come si suol dire una questione molto complicata da capire. Pino Corrias, però tu aiutaci a capire meglio chi è Luca Lotti, ex braccio destro di Renzi, perché oggi gli hai dedicato un lungo ritratto sul fatto quotidiano. Tra l'altro oggi Lotti si è autosospeso dal Partito Democratico. Chi è Lotti e che cosa significa questo gesto? Può bastare? Intanto è uno che si è autosospeso con una settimana di ritardo, mi pare, rispetto agli eventi. È uno dei personaggi della nostra nuova politica che sono straordinariamente bravi a intrecciare rapporti, potere, comunicazione, propaganda, ma che poi rischiano di bruciarsi come fanno i fuochi d'artificio, cioè rapidamente e anche in modo spettacolare. La politica ci sta abituando a queste figure che ascendono sul palcoscenico della politica e poi si bruciano in fretta. Luca Lotti appartiene un po' a questa schiera. In realtà, se noi ci pensiamo, lui ha calcato le scene per tutta l'avventura renziana, è stato ministro, è stato sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con un potere molto forte, aveva la delega ai servizi segreti, aveva la delega all'editoria, eppure noi di Luca Lotti non sappiamo le opinioni, non sappiamo un pensiero profondo di Luca Lotti, sappiamo solo che era un uomo che muoveva gli ingranaggi dietro il palcoscenico, dietro la luce e questa inchiesta ce lo sta rivelando. Bianconi dice una cosa verissima, noi abbiamo immaginato e tante volte ricostruito il retroscena dei magistrati nelle procure, la lotta tra le correnti e la magistratura. Questa è la prima volta in cui li vediamo, li ascoltiamo sulla scena, ed è questa la cosa sorprendente. Vediamo sulla scena, anche grazie a molte intercettazioni che non solo sono state fatte, ma sono state anche pubblicate, e grazie alle inchieste. Capitano Ultimo, quanto pesa la politica nell'attività delle procure? Dicevamo all'inizio della trasmissione che lei ha lavorato molto, ha strettissimo contatto con varie procure italiane, allora quanto pesa la politica nella loro attività? Io sono stato fortunato, io ho lavorato con dei magistrati puri, che erano condizionati dalla legge e basta, dai limiti umani che avevano come persone, o dagli strumenti operativi che eravamo noi, e che noi li limitavamo per le nostre incapacità, ma ho conosciuto gente splendida, sono fiero di aver lavorato con questi magistrati, la politica non l'ho mai vista con loro. Naturalmente lei è anche molto fiero di aver lavorato con il generale dalla Chiesa, che poi è stato trucidato dalla mafia, lo dico perché accanto a lei vediamo un quadro che ritrae il generale dalla Chiesa. Senta Capitano Ultimo, Luca Lotti, ex braccio destro di Renzi, è imputato nell'inchiesta Consip, la Consip è la centrale unica degli acquisti della pubblica amministrazione, quindi è una centrale di denaro e di potere molto importante. Ecco, lei se ne è occupato dell'inchiesta Consip, questo le ha procurato anche molte grane, l'hanno accusata di avere ordito un complotto contro Renzi, o ai danni di Renzi e lei ha querelato chi ha detto e scritto queste cose. Lei e i suoi uomini, a cominciare da Scaffarto, non avete nulla da rimproverarvi? Io veramente dell'inchiesta Consip non me ne sono occupato in alcun modo, perché proprio temporalmente è stata avviata quando io ero ai servizi. Ma Scaffarto lavorava con lei, no? Invece insistono, sì, noi abbiamo lavorato per l'indagine CPL Concordia, che era diversa però da Consip, abbiamo lavorato insieme e poi, ad un certo punto, tutti hanno cercato di coinvolgermi, perché avevamo avuto dei contatti, Scaffarto aveva mandato alcune mail insignificanti, e se ha creato così nell'immaginario, un immaginario però costruito, il fatto che io partecipavo a questa inchiesta Consip mentre mi trovavo ai servizi. E questa è una cosa falsa, mi è dispiaciuto perché ovviamente mi ha creato un gravissimo danno a me e ai carabinieri che lavoravano insieme a me, ed è un'operazione squallida, perché se io avessi partecipato all'indagine Consip l'avrei detto e non avrei avuto nessun problema a farlo. Ma vista dall'esterno, secondo lei? Quindi a questo punto l'unico rammarico è quella di non averla fatta veramente questa indagine. C'è una domanda di Bianconi. Volevo chiederle se secondo lei, dopo aver visto le indagini come si sono sviluppate, qualche cosa, i suoi ex uomini, diciamo così, quelli che lei aveva lasciato, hanno sbagliato qualcosa oppure no? Ma io credo che chi ha sbagliato e si dichiara innocente ha il diritto di utilizzare tutti gli strumenti che la legge gli consente per dimostrare la propria innocenza. E chi ha sbagliato, anche in questo caso, se ne assumerà la responsabilità. Qual è il più grande errore che lei ha commesso nella sua lunga carriera? Guardando le cose dopo che si è giocata una partita, magari avrei fatto proprio completamente un'altra partita, ma avrei cambiato proprio la mia vita. Cioè? Non solo un episodio. Gli episodi... No, magari avrei fatto un'altra attività, ma quello che ho fatto io mi sono donato nel lavoro con la passione e con tutto l'amore possibile. Poi le cose si possono sempre rivedere, però dopo non vale. Conta l'attimo in cui si vive. Cosa avrebbe potuto fare al posto del mestiere che ha fatto? Ma credo che avrei fatto l'agricoltore. Sarei stato accanto agli alberi, perché amo gli alberi e le piante. Quindi poco gli uomini. Senta... No, scherzo, adesso faccio una battuta. Pino Corrias, la politica ha strumentalizzato il capitano ultimo e anche lui che in qualche modo si immagina un futuro politico. No, un futuro politico veramente non glielo auguro. Nel libro intervista io quella domanda appunto su se si pentiva o no di essere stato carabiniere, visto quante inimicizie si è fatto, lui mi avrebbe detto sì che sarebbe voluto, avrebbe preferito fare il contadino come avevano fatti i suoi nonni toscani. Certo che la politica ha utilizzato le inchieste del capitano ultimo, sono state, se ne sono gloriate degli arresti. Lui ha fatto la prima grande inchiesta sulla commissione tra mafia e politica a Milano, la Duomo Connection, alla fine degli anni Ottanta. ha catturato Totò Riina che era latitante da 23 anni e che sembrava imprendibile e che sembrava un fantasma e che poi lui e i suoi uomini hanno preso in sei mesi abitando dentro i labirinti di Palermo e scovando il capo dei capi che sembrava imprendibile. Dopodiché nei 15 anni al Noe ha fatto delle inchieste molto importanti sulla camorra, sull'andrangheta, sulla corruzione nell'aurenautica, ha fatto inchieste che hanno colpito interessi di partiti di destra, di centro e di sinistra e questo gli ha creato e gli ha moltiplicato i nemici e quindi lo sconforto di oggi è assolutamente comprensibile. È stato usato e poi quando è diventato una minaccia è stato abbandonato. Allora vorrei chiedere a Bianconi, poi le do subito la parola capitano Ultimo, vorrei chiedere a Bianconi se condividi questa lettura della carriera, del percorso professionale. Lui è stato certamente strumentalizzato e utilizzato dalla politica, è stato prima glorificato e poi quando non serviva più è stato anche attaccato, scaricato. Naturalmente le cose non sono mai lineali, purtroppo ci sono sempre dei vicoli, delle curve dentro le quali poi si possono interpretare alcuni avvenimenti in maniera diversa. È evidente che quello che poi si è cominciato a dire qualche anno dopo la cattura di Riina, la mancata perquisizione al covo di Riina, nonostante lui abbia subito un processo dal quale è uscito completamente assolto, è rimasta comunque un punto interrogativo perché la stessa sentenza che l'ha assolto dice che comunque ci sono alcune cose di quella storia che non sono spiegabili. Io stesso, con lui pure ne ho parlato varie volte, su alcune cose continuo a farmi delle domande e le risposte non sono a mio avviso del tutto convincenti. Per esempio? Per esempio il fatto che si dice che Riina non avrebbe mai tenuto a casa dei documenti e quindi era sostanzialmente inutile la perquisizione. a parte il fatto che io non conosco latitanti non perquisiti ma in ogni caso quando Riina è stato arrestato subito dopo che era uscito da casa aveva in tasca dei pizzini quindi presumibilmente è uscito da casa con dei pizzini. Si poteva immaginare che a casa ne avessi altri. Non è che adesso voglio rifare tutta la storia della cattura dell'arresto di Totò Riina, capitano ultimo però può solo dirci in poche parole perché non fu perquisita la casa, l'alloggio di Riina? Si, perché io proposi di anziché fare la perquisizione seguire i fratelli Sansone che erano degli imprenditori importanti all'interno di Cosa Nostra ma in quel momento sconosciuti e ritenevo che seguendo questi fratelli Sansone si sarebbe potuto disarticolare completamente in breve tempo l'intera organizzazione criminale anche con le connessioni verso il potere politico e nel mondo della gestione degli appalti perché li ritenevo un'occasione unica, irripetibile purtroppo dopo 20 giorni invece la procura che prima aveva accettato questa mia richiesta non in posizione ovviamente ci ha ripensato e è venuto fuori tutto questo discorso del covo la sorveglianza del covo ma nessuno ha mai parlato in quei giorni che all'interno c'erano dei documenti da sequestrare nessuno ha mai dato disposizioni affinché coloro che uscivano da questa casa poi sarebbero dovuti essere perquisiti perché altrimenti che senso aveva osservare se l'interesse era prendere quei documenti c'era l'accordo a farli uscire questi documenti non da parte mia ma di tutti gli altri e fatalità del destino mi trovo ad avere ragione su quella scelta strategica sempre con umiltà dico questo perché pensi dopo nel 2013 vado a fare un'altra attività a Roma con la procura di Roma e fatalità del destino in diretta da un'intercettazione apprendo che il figlio di di Sansone Salvatore si è fidanzato ufficialmente con la nipote di Messina Denaro Matteo che è ancora ricercato ampiamente senta Capitano Ultimo torno un attimo alla politica perché lei è stato candidato da Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia al Quirinale nel 2013 non ha né accettato né preso le distanze perché? ma perché mi sembra una cosa così grande che non è... non dipende da... cioè mi sembra una cosa surreale però ringrazio quelli che hanno avuto questo pensiero ma l'ho vissuta come una cosa così surreale ma si sente vicino all'idea di Fratelli d'Italia?